Tra la gamma ampia di Tecno Gym quest'anno abbiamo una novità che è la Tecno Gym Bike che completa la linea Personal, disegnata da Antonio Citerio, nostro partner designer da ormai vent'anni. La linea Personal ha vinto più di dieci premi di eccellenza del design ed è anche questa una creatura che sarà destinata a vincere tanti premi. La Tecno Gym Bike ha un display connesso attraverso il wifi che uno può trovare il suo personal trainer, i suoi programmi, il suo coach sostanzialmente oppure fare seguire un percorso virtuale per pedalare in mezzo alla natura piuttosto che guardare un film su Netflix o la televisione e attraverso l'applicazione Tecno Gym Wellness on the go avere il proprio programma di allenamento, i propri dati, film, la propria musica, a portata di mano in ogni luogo si trova. Quindi dal design alla tecnologia, l'innovazione. L'idea di Tecno Gym è di far sì che ogni prodotto sia come un'opera d'arte che può essere collocata negli ambienti più belli della casa. Utilizza materiali, compositi, plastici però tutto all'insegna della sostenibilità. Tutti i nostri prodotti sono prodotti con dei processi a basso impatto ambientale. Utilizziamo il minor numero di componenti possibili per ridurre l'assistenza tecnica e aumentare al massimo l'affidabilità. A un livello paragonabile a Apple, paragonabile a un livello del settore automotive come Mercedes, BMW. Quindi noi ci posizioniamo come un brand di qualità, di servizio aspirazionale che possa creare emozioni e ingaggiare le persone verso il let's move for a better world. Grazie a tutti.